Banca Popolare Pugliese Il centenario della banca è l'occasione per lanciare una campagna multimediale che posizioni il brand Banca Popolare Pugliese come top of mind tra gli istituti di credito popolare in Puglia. In un periodo di crisi economica globale generata dagli eccessi del turbocapitalismo finanziario occorre riposizionare nella mente delle persone l'idea di banca allontanandola dal mondo di Wall Street, dei mutui subprime e dei derivati per avvicinarla di più all'economia reale, alla produzione concreta, al senso di una missione socialmente utile. Una banca popolare è l'istituzione che più di altre può compiere questa operazione cognitiva in modo credibile colmando il gap tra le persone in carne e ossa e le cifre digitali che scorrono sugli schermi dei computer degli stock exchange. Posizionare la banca come vera e propria parte sociale con un suo preciso ruolo all'interno del sistema economico, sociale e culturale pugliese è una scelta strategica per rendere il brand un punto di riferimento nel settore. Che valore hanno i numeri se sono svincolati dalla realtà del territorio e delle persone che lo abitano? La campagna di Banca Popolare Pugliese risponde a questa domanda rappresentando gli asset della banca insieme alle persone che li rendono possibili. I volti degli attori e delle modelle rappresentano tutti i soci, i collaboratori, i clienti e poi le imprese finanziate e le filiali rafforzando così il principio per cui la banca ottiene risultati importanti solo perché è fatta da persone speciali. Il claim Abbiamo i numeri per crescere insieme chiude la comunicazione lanciando un messaggio di positività verso il futuro. Inoltre, per supportare il posizionamento scelto con dei fatti concreti si è deciso di affidare la regia dello spot a Edoardo Winspear una firma autoriale riconosciuta a livello nazionale. Una scelta che ben testimonia l'identità di Banca Popolare Pugliese come sostenitrice delle migliori energie creative e culturali di questa regione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Un mese dopo la fine della campagna è stato svolto un sondaggio su un campione di 34 persone composto per un terzo da clienti della banca. Le analisi hanno confermato l'efficacia delle soluzioni strategiche e creative adottate. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.